Ciao a tutti quanti, locomotiva svizzera, 114 dal sapore made in Germany, Fleischmann Eccola qua Beh, cosa vi devo dire di questi modellini Fleischmann? Sicuramente il committente, ovvero sia il carissimo amico Walter Roveroni del negozio Tech Model di Roma in via Paraguay Mi ha chiesto di poterla aggiornare con i nuovi dispositivi digitali, ovvero sia di allestirla con un decoder Se non che i limiti di questi modelli Fleischmann di qualche anno fa hanno un grande limite legato al polo in comune tra motore e uno dei due poli delle prese di corrente Questo limite fa sì che non è possibile, se non si isolano, non è possibile additivarle di decoder, perché altrimenti in quel caso il decoder stesso si brucia La locomotiva in questione è questa I carrelli si potranno svincolare svitando le viti come in figura due per lato, ovvero sia due per carrello Di cui uno è folle e l'altro è motorizzato Liberato perciò il carrello motore possiamo, dalle foto, capire un pochettino meglio il problema Una volta staccati i carbuncini possiamo vedere esattamente, come indicato dalla freccia, il polo del motore a massa Soltanto con dei coperchi in materiale plastico sarà possibile isolare i due poli del motore dal resto del telaio Purtroppo questo coperchio qui, come indicato in figura, non è possibile montarlo in questa locomotiva A questo punto cosa vi devo dire? Sicuramente intanto vorrei precisare che questi modelli completamente in metallo della Fleischmann Di qualche anno fa, ancora una volta allo specifico, sono modelli comunque sia molto ben fatti Parecchi modellisti sono estremamente affezionati a questi modelli e secondo me fanno bene Beh, visto il limite tecnico che vi sono permesso di evincere e di spiegare in questo mini clip Lasceremo la macchina, se non troveremo una soluzione con un coperchio relativo ai carbuncini isolato Lasceremo la macchina in analogico La macchina non se ne vergognerà, come non ce ne vergogneremo noi Beh, a questo punto qui vi dico grazie sempre a tutti per ascoltarmi E alla prossima, ciao a tutti